I cancelli della discarica di Siculiana rimangono chiusi a causa della saturazione dell'impianto di biostabilizzazione. L'amministrazione comunale ha trasmesso una nota urgente alla Prefettura di Caltanissetta per rappresentare l'emergenza connessa all'accumulo di rifiuti per le strade del capoluogo. Il sindaco Giovanni Ruvolo e l'assessore Maria Grazia Riggi sono in contatto con la Prefettura della Regione e il Dipartimento Acqua e Rifiuti per chiedere con altrettanta urgenza un'ordinanza con cui la Regione indichi un sito alternativo in cui smaltire i rifiuti, ovvero consenta la riapertura dell'impianto agrigentino. In serata è attesa un'ordinanza della Regione Siciliana per sbloccare la situazione. In una nota il sindaco Nisseno Giovanni Ruvolo afferma che anche con la riapertura dell'impianto la situazione ritornerà alla normalità lentamente, vista la mole di rifiuti accumulatisi nei compattatori e nei cassonetti stradali che dovranno essere prioritariamente conferiti. Per questo motivo Ruvolo rinnova l'appello alla massima collaborazione dei cittadini invitandoli a conferire i rifiuti in forma differenziata.